Fraternità, fondamento e via per la pace. E questo è il tema scelto da Papa Francesco per la diciassettesima giornata per la pace. L'uomo è un essere relazionale, dice il Papa, e per questo non può fare a meno di prendersi cura del prossimo e di essere lui stesso oggetto delle cure altrui. Inoltre la fraternità si fonda teologicamente a partire dalla paternità di Dio. E' l'essere figli di un solo Padre Celeste che motiva la carità e il servizio. Infatti il servizio è l'anima di quella fraternità che edifica la pace. Con queste premesse si è svolta ad Andrea nei giorni scorsi la consueta marcia della pace, occasione per sensibilizzare la comunità civile ad un tema, quello della pace, sempre attuale e non sempre vissuto nella concretezza delle relazioni quotidiane. La manifestazione è partita dal cortile dell'oratorio salesiano di Andrea per poi giungere in cattedrale per un momento di preghiera. Si è conclusa con un gesto di condivisione in piazza Duomo il cui ricavato andrà a beneficio delle opere della Caritas Diocesana.